ciao buongiorno a tutti oggi amsterdam sentite il rumore del vento un vento fortissimo per prepararmi questa deliziosa riso e zucca mi sono dovuto chiudere nel seme rimorchio quindi oggi ristorante al seme rimorchio sentite il vento come soffia oggi è incredibile la forza spaventosa oggi 13 marzo ci prepariamo il pranzo zucca rigorosamente dal mio giardino grazie a tutti grazie a tutti